Sono passati 50 anni da quando l'allora Vescovo Monsignor Giuseppe Carraro pose la prima pietra della nuova chiesa parrocchiale di Povegliano Veronese. Da allora molte cose sono cambiate, ma in mutato è rimasto l'attaccamento degli abitanti ai luoghi simbolo della propria comunità. Questo è il santuario della Madonna dell'Uva Secca. Si vedono i due campaniletti, questa è la Madonna dell'Uva Secca, invece il campanile un po' più alto della parrocchia di Povegliano. C'è una grande comunione. La parrocchia fa parte della stessa parrocchia e è una gioia poter avere proprio in questi mesi la soddisfazione di vedere realizzato questo centro, qui alla Madonna dell'Uva Secca. In parrocchia abbiamo la chiesa che ha 50 anni. Il 27 maggio faremo la sera la celebrazione, il ricordo della posa della prima pietra con la presenza di Monsignor Roberto Tebaldi che era stato anche parroco qui. E poi per un anno faremo il ricordo delle persone che hanno fatto questi 50 anni, 50 anni del Concilio Vaticano II, 50 anni della chiesa parrocchiale e 50 anni di una storia che è cambiata, che è cambiata molto, ma che si mette in sintonia con il Vangelo, con i tempi, per cui anche la soddisfazione di poter ricordare, far memoria, ringraziare, celebrare per poter rilanciare la vita cristiana costantemente del paese. Oltre 700 anni di storia alle spalle, una frequentazione di fedeli mai venuta meno. Il santuario negli ultimi anni ha avuto bisogno della mano dell'uomo per poter continuare ad essere polmone di spiritualità e luogo di accoglienza. È un intervento che ha riguardato tutte le strutture da zero. Abbiamo praticamente rifatto tutte le opere e tutte le costruzioni che erano precedentemente fatte e che stavano per cadere. Grazie a Dio abbiamo ricevuto un sacco di sostegno popolare, come ho detto prima, e anche un sostegno fondamentale da parte della Sagra, della Madonna e quindi dell'Assunta. L'ultimo colpo che ci è arrivato dalla Giunta regionale del Veneto ci ha indotto proprio a credere fino in fondo a questo progetto per arrivare al completamento delle opere. Il santuario della Madonna dell'Uva Secca è divenuto negli ultimi anni luogo fisso di ritrovo per il personale e gli ammalati che fanno parte dell'unità al Siveronese, che qui celebra ogni anno una delle più partecipate feste dell'ammalato a livello diocesano. Voi dell'unità al Siveronese ci siete affezionati a questo santuario? Sì perché ci dà la possibilità di incontrare un tanto tutte quante l'unità al Siveronese che è presente vivamente con tutta la sua rappresentanza e anche perché ogni anno si è susseguito sempre con la partecipazione di un sacco di persone. E questo ormai è un baluardo che dall'URD arriva sempre anche in questi luoghi. Penso che sia significativo poter avere uno spazio che tra l'altro qui attorno verde, dei momenti di silenzio, anche una maniera dei momenti diversi dal cammino costante della parrocchia, per cui anche la straordinarietà di un centro di spiritualità, di avere possibilità di momenti di preghiera, che comunque sia in sintonia con la parrocchia, faremo la chiusura del mese di maggio, partendo dalla parrocchia fino a qui, altri eventi che si svolgono qui, proprio per dire che il bello della vita cristiana è l'ordinarietà ma anche dei momenti speciali. E il santuario permette anche questo, per cui penso che sia davvero una grande fortuna, una grande grazia per la parrocchia e non solo per la parrocchia, avere questi due polmoni della chiesa parrocchiale e del santuario.